Il giorno della partita decisiva, quella da dentro fuori, destinata ad entrare negli annali della ultracentenaria storia bianco-verde, è arrivato. Travellino e Padova, fischio d'inizio alle 17.30, dovrà necessariamente uscire un vincitore e un vinto. Inevitabilmente, al segnale di chiusura di Andrea Colombo di Como, che potrebbe arrivare persino ai supplementari o rigori in caso di parità con qualsiasi risultato nei 90 minuti regolamentari, ci sarà chi sarà costretto a spezzare traumaticamente il sogno della promozione in B e chi contemporaneamente si ritroverà a gioire, pensando già all'ultimo duello da affrontare in finale. Comprensibile, pertanto, l'attenzione che si è registrata nell'immediata vigilia con le discutibili dichiarazioni di Andrea Mandorlini, tecnico del Padova, e la replica pepata di Salvatore Di Somma, prima schermaglie di una gara che si preannuncia incandescente ed in cui Piero Braia dovrà fare a meno degli squalificati Carriero e Ciancio, con la spinta di un intero popolo che si farà sentire con i mille tifosi ammessi all'interno dell'impianto di Via Zoccolari e i ragazzi della Curva Sud, ammassati prima, durante e dopo all'esterno tra Campo Genova e Via Naruma, l'allenatore bianco-verde proverà comunque a chiuderla nell'arco dei 90 minuti regolamentari. Azzerati i vantaggi e gli svantaggi della classifica, ma anche il valore del gol in trasferta, Lavellino accantonerà l'esperimento della difesa a quattro varata all'Euganeo per far ritorno al modulo più tradizionale. Il 3-5-2, lo schema che ha accompagnato i lupi per quasi un'intera stagione, tornerà così ad essere il canovaccio di partenza al pari del 4-3-3 del Padova di Andrea Mandorlini. Almeno quattro le novità che Lavellino potrebbe presentare stasera in formazione rispetto a Padova. La prima sarà rappresentata da Francesco Forte, che si riprenderà alla sorveglianza dei pali bianco-verdi dopo l'ottima prova fornita all'Euganeo da pane. Davanti all'ex carrerese, la difesa 3 sarà quella titolare di questa post-season, con la Itza Ilianes, il ruolo di Braccetti, a supporto di Dossena in regia. In mediana, anche se Adamo insidia Rizzo, l'unica novità potrebbe essere rappresentata dal rientro di Aloi al posto di carriero. Probabile, visto che il suo dirimpettaio dovrebbe essere Ronaldo, riportato da Mandorlini in regia, che le chiavi del centrocampo bianco-verde possano essere pertanto lasciate tra le mani di De Francesco. Alex Regino, dotato certamente di una maggiore fantasia rispetto a Aloi, spetterà pertanto il compito di dettare i tempi e provare ad innescare Maniero e Fella, attaccanti che si ritroveranno a far coppia nel reparto avanzato, ma soprattutto a tentare di realizzare quel gol che potrebbe proiettare l'Avelino in finale, ad un passo soltanto dal ritorno in quella Serie B che un intero popolo sta in queste ore sognando di riconquistare.